di cosa assete gesù della nostra fede e del nostro amore assete del nostro eccomi assete a causa della mancanza di verità e dell'ipocrisia che ci abita assete di donarci il suo amore questa sete di gesù deve diventare nostra anche noi dobbiamo spargere il nostro sangue per gli altri ovvero amare l'altro fino a dimenticare totalmente i nostri bisogni offrire non solo il nostro tempo e i nostri doni ma il nostro amore totale viviamo questo venerdì santo nel silenzio meditativo pensando a tutto ciò che gesù ha offerto per noi donandogli il nostro amore come consolazione cosa darai da bere oggi a gesù e tu di cosa hai sete nocci